Eccolo qui, gran gol, gran gol questa sera da 60 metri, hai visto Fiorillo fuori dai pali, ci hai provato e ti è andata bene, vogliamo raccontare questa azione? Sì, sì, ho visto Vincenzo fuori la porta, ci ho provato e è andato bene. Non è bastato questo gol per evitare la sconfitta, dopo il gol tra l'altro tu non hai quasi esultato, sei corso verso la panchina ma non hai esultato. No, no, mi sono pure emozionato prima della partita a tornare a questa città perché qua sono stato molto bene, due anni splendidi, so che la gente mi vuole bene, io anche a queste persone, a miei amici, a miei ex compagni, queste società li voglio troppo bene, quindi esultare non è che non è esultato perché io esulto, perché gioco per Crotone, però comunque non mancherò mai il rispetto per questa piazza. Quali sensazioni giocare a Pescara ad avversari? No, va bene, sono professionista, devo dare tutto per la mia squadra, per la mia città, però sicuramente mi sono emozionato perché ho tanti compagni in cui mi sono trovato bene, li sento ancora, quindi a giocarci contro era una cosa bella. A proposito del tuo gol questa sera hai imitato Brugman che aveva segnato un gol simile ad Avellino. Sì, 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 diciamo, va bene, Gas è un grandissimo amico, un fratello, lo voglio troppo bene, lui è un giocatore fortissimo per questa categoria e l'augura il meglio.